Allora Matteo, i tuoi genitori erano nel mondo tessile, raccontami come l'hai vissuto sin da piccolo. Beh sì, mia madre era in quel mondo, mio papà era in quel mondo, quindi io, dai nonni addirittura, quindi una seconda generazione io sarei un po' diventata la terza, quindi un sapore che respiravo, un DNA che ho assaporato da quando ero piccolo, a Carpi, zona storica dell'abbigliamento, della manifattura e di tutto un mondo, quindi del tessile. Poi all'età di cinque anni purtroppo perdo mio papà in un incidente estadale, quindi comunque vivo per quell'età un momento drammatico, ma per coincidenza comunque mia madre ritrova col tempo un compagno che poi diventerà per me come un padre, che anche lui è nel mondo del tessile, a Parma. Però come capisci io vivo e la mia vita è sempre comunque a casa, gli argomenti sono dell'abbigliamento, delle dinamiche di quel settore e tutto, quindi per me rappresenta proprio dall'età di quando ho iniziato a capire, a parlare e sentire parlare di abbigliamento. Anche mio padre ha lavorato tutta la sua vita nell'abbigliamento e io odiavo il suo mestiere perché il suo mestiere me lo portava via, nel senso che passavo poco tempo con i miei genitori perché erano molto impegnati in quel lavoro, quindi quando cresci con questa cosa o sogni di diventare quello che sono loro o detesti quel mondo e ti cimenti in un altro, amavi o odiavi quel mondo lì? Ma io ti devo dire la verità, in effetti all'inizio lo odiavo perché comunque io non stavo mai con loro perché comunque hai fatto questo mondo di fiere, soprattutto poi in quegli anni si lavorava molto anche all'estero per le produzioni, quindi per me il tempo era poco, però poi pian piano capivo e ho capito, ma come tuttora, che era la cosa che mi era più facile fare, cioè automaticamente quando io ero in quel mondo, parlavo di lavoro, era un linguaggio che mi viene automatico, probabilmente quindi mi sono ritrovato poi quando ho compiuto 18 anni a sceglierlo di rifare comunque un marchio mio e di rimanere legato a quel mondo. Poi, iniziando la mia strada e il mio progetto, ho capito che avevo anche le basi e le competenze per poter riuscire ad affrontarlo in maniera corretta. Normalmente, quando una persona si cimenti in un lavoro, guarda un po' quello che c'è sul mercato, cerca di fare una cosa che non c'è. Eri così giovane che hai ascoltato il cuore e hai detto lo faccio e basta, me ne frego di quello che c'è o hai fatto un po' di ricerca? L'ho fatta successivamente, quando però ho deciso di ascoltare prima il cuore e di partire come un razzo. Poi, scegliendo di partire attraverso due articoli che erano la t-shirt e la felpa, un po' lontani delle mie basi, perché noi tradizionalmente da parte della mia famiglia eravamo dei magliai, due concetti di abbigliamento diversi, ho cercato subito di capire chi era in quel momento, che stava vendendo t-shirt e magliette, in che negozi le vendeva, che target aveva. Ed è il brand Pickwick che ti ha ispirato? Sì, perché comunque era già un brand, allora era già molto grande, faceva dei grandissimi numeri. Quindi era il tuo modello? Era il mio modello. Cioè tu sei partito da lì? Qual è la prima cosa? Pensi al marchio, pensi soprattutto al nome, perché la margherita è arrivata dopo ed è arrivata per caso. La prima cosa che è stata creata e pensata è stato il nome del marchio, Guru. Perché tu davi del Guru a quelli bravi, vero? Io davo del Guru a quelli bravi. Allora i marchi per me di riferimento erano tutti corti, quelli veramente che erano di mia ispirazione, a parte Pickwick, Diesel, Gas, Replay. Quindi breve, facilmente ricordabile. E da lì ho iniziato a fare il marchio, disegnarlo anche graficamente come doveva essere, registrarlo. Dopodiché ho iniziato a fare una collezione, perché quando si decide di partire non si riesce mai a essere con la stagionalità corretta. Quindi era aprile a cavallo di una stagione. Quindi ho detto faccio qualcosa per essere pronto. Hai fatto un flash? Un flash. Lo faccio vedere quest'estate, quando gli altri saranno fuori con le collezioni e io consegnerò a settembre. Quindi diciamo un flash per l'autunno-inverno successivo. Tu quando hai 18 anni, il giorno del compimento della tua maggiore età, erediti una somma che tuo papà a tua insaputa ti lascia. Sì. Usi quei soldi per fare il marchio? Sì, allora ne spendo tanti per me. Però uso assolutamente quelli. Li uso sia in una fase concreta di creazione della società, versamento del capitale sociale, tutte le pratiche che devi svolgere per fare questa cosa e anche per alimentare nei mesi immediatamente successivi alla creazione di tutta la struttura del brand, qualcosa che non avevi la possibilità di andare a prendere dalle fonti della società. Perché comunque l'imbarchio era l'inizio, quindi tutta la mia vita, i miei contatti, tutto quello che io mi creo parallelamente al marchio, ovviamente utilizzo le mie risorse. Ok. E all'inizio come si fa? Fai un campionario, fai pochi pezzi, vai a stampare sugli ordini. Come funziona la macchina in un'azienda di abbigliamento? Cerchi ovviamente di creare una piccola rete vendita. Una piccola rete vendita che tendenzialmente è completa quando viene rappresentato da uno showroom in tutte le regioni, quindi circa dieci, dodici showroom. Cerchi di capire quali sono le regioni più vicine ai contatti che hai, quindi parto con cinque campionari. Un campionario è fatto da quanti pezzi? Decido di farlo sia uomo che donna, erano circa dodici capi da uomo, circa venticinque pezzi. Quindi dai cinque box c'è cinque campionari, a cinque agenti, cinque regioni. Cinque agenti, cinque regioni. E come li trovi dei rappresentanti che non hai mai fatto questo lavoro? Te li dà tua mamma? Ma alcuni, ovviamente mia madre e tutta la mia famiglia lavorava con marchi venduti tramite i rappresentanti, quindi avevo comunque da quando ero piccolino conosciuto tanti showroom, tanti uffici, tante agenzie. Qualcuno l'ho cercato io e qualcuno poi per fortuna mi ha cercato. Poi tu sei uno che si sbatte tanto per trovare tutti i tasselli che compongono il puzzle, quindi questo l'ho letto nella tua storia, ma ci arriveremo poi dopo. Quindi tutti gli incassi per far sì che la gente creda in te, tu ti butti lì. Perché a vederti sembri una persona quasi timida, molto centrata. Sì, però poi non è sempre così, nel senso che cerco di… però comunque ero molto determinato. Per me dal 1999, quando è stato registrato il marchio, Guro era il mio compagno di viaggio, cioè la mia ragione di vita. Io avevo sempre delle maglie in macchina con me da regalare, comunque andavo a qualsiasi cosa, una cena, un evento, però parlavo, cercavo di costruire. Quindi era proprio un compagno di viaggio costante. Era il tuo primo pensiero, era la tua priorità su chiunque e qualsiasi cosa. Assolutamente. Anche oggi hai portato delle maglie, quindi questa buona abitudine l'hai tenuta e il tuo bambino te lo porti sempre a presso. Devi credere molto in questa cosa, soprattutto all'inizio quando comunque cerchi di fare un marchio nuovo. Perché penso che comunque con le differenze magari di un ventennio era molto difficile anche nel 99 come lo è difficile adesso. Devi credere e avere una visione del tuo progetto e sapere a chi vuoi rivolgerti. Però sei stato un po' un precursore. Cioè secondo me tu in quegli anni hai ispirato tutti gli stilisti, tutti i brand che sono arrivati dopo, quindi marchi grandi, hai fatto ritornare quel senso di appartenenza, quella maglia, quella cosa di cui vai fiero. Qual è la formazione iniziale? Chi siete e i ruoli di quella squadra? Siamo io e un socio, Gian Maria, che faceva già quel lavoro e tra l'altro era con i suoi negozi di ginseria un cliente del marchio di mia madre e un amico, quindi anche se almeno di 7-8 anni più grandi di me è comunque un amico con cui uscivo abitualmente. Quindi lui ha i negozi, ha la cultura dei negozi, i rappresentanti, tu sei un creativo, poi tua mamma fa il prodotto volendo. Mia madre fa il prodotto, lui infatti mi presenta anche comunque qualche rappresentante, perché ovviamente ne conosceva tanti, perché stando vent'anni in negozio ne ha conosciuti tanti. Quindi tu crei un marchio e il negoziante ti chiede quanta comunicazione farai, cioè perché un negoziante deve accettare di prendere il tuo prodotto? Beh intanto deve essere evidentemente esteticamente bello. Certo, però devi creargli un sogno. Io quello che riuscivo a creare al negoziante, il sogno di un'appartenenza a un mondo, a uno Stato, più era vivo, più io lo manifestavo facendogli vedere una copertina di un giornale dove magari c'era un personaggio che indossava la mia maglia, un giocatore di calcio. Più riuscivo anche lui a farlo entrare in questo mondo e più lui, quando doveva effettuare la vendita al suo cliente, trasmetteva questa sensazione e di conseguenza era una catena continua di creare un sogno, di creare, di appartenere a questo brand e di comprare una maglietta guru perché comunque io tenevo vivo tutta una serie di operazioni pubblicitarie, di personaggi, di comunicazione che ti facevano secondo me sognare. Se tu indossavi quella maglietta ti sentivi parte di un gruppo, di una storia, di qualcuno, di qualcuno che ce l'aveva fatta, di qualcuno che aveva a giocare a pallone, di qualcuno che comunque... Ti sentivi un vincente. Ti sentivi un vincente. Ma mentre tu facevi questo, il PR con il tuo bambino in giro per l'Italia a convincere tutti, che se tu mette vigore eri un vincente. Chi gestiva l'azienda? La famosa formazione era di due persone. Poi poco dopo inserisco comunque una sorta di aiuto mio e di giamma di una ragazza che si occupava dalla fatturazione, a oslo spedire con noi perché poi il problema è che quando arrivavano i capi da spedire stavamo full immersion 12, 13, 14 ore al giorno dentro il magazzino a fare i pacchi, a far partire questi pacchi perché poi la priorità era, ok, dobbiamo comunicarla ma adesso è arrivata, dobbiamo farla rimbalzare fuori dal magazzino e spedirla ai negozi perché poi devi essere molto corretto e molto bravo, soprattutto per un brand nuovo all'inizio, se dici che ve la consegnerai Deve essere molto preciso. Preciso, ai primi di settembre, ai primi di settembre i capi e il tuo cartone deve essere spedito al negozio. L'instauri, il trust, la fiducia. Eh sì, perché comunque in un brand nuovo a cui danno fiducia, a cui danno denari, a cui fanno un ordine, guardano anche che comunque la sia serio. Qual è il giorno, raccontamelo precisamente se riesci a ricordarlo, in cui hai avvertito, hai sentito, in quel momento, cazzo sto diventando forte, cioè il mio marchio sta diventando grande. Tornando un attimo alla formazione per capirti, perché è un passaggio importante, dopo quattro stagioni, quindi secondo me siamo tra la fine del 2000 e l'inizio del 2001, inizio a avere degli screzi con Gian Maria. Ok. Quindi decido che o andava avanti lui o andava avanti io. E ci lasciamo anche in maniera un po' dura. Ok. E non semplice. Vi lasciate in modo duro perché tu non vuoi mollare e lui vuole capitalizzare. Perché io volevo mollare io, se no capitalizzare quello che dicevo io. Era un bluff che volevi mollare tu? Poi era un po' un bluff, però nella vita bisogna anche bluffare. È ovvio. Poi in quel momento storico io avevo più risorse, quindi garantivo più io con le banche. È arrivato un punto di rottura. Lui aveva già un altro lavoro perché prendeva lo stipendio dai negozi. Io no. Quindi sai, cominciavano a nascere delle dinamiche anche economiche che purtroppo ci hanno un po' allontanato. Probabilmente cominciavamo a essere un po' su due binari separati. Avevo bisogno di solidità economica, di garanzie per le produzioni perché il problema poi, soprattutto in un brand nuovo, comincia a essere che le produzioni devono arrivare nei tempi, le cose devono essere fatte come hai fatto vedere. Quindi un controllore, una persona che avesse delle relazioni che monitorasse quella storia. Chi meglio di chiunque altro poteva fare questo lavoro? Mia madre e il compagno di mia madre, che avevano ceduto i loro marchi, erano fra virgolette un po' in pensione, ma con un'esperienza di 35 anni sulle spalle. Erano super precisi. Infallibili. Con loro io mi sento ancora più libero, con la loro sicurezza, liquidando già Maria, avendo la garanzia che qualche capitale, anche per far fronte alla crescita, fa sì che io riesco a fare ancora di più del 100% quello che facevo già. Ho letto nel tuo libro che tu hai passato la vita a convincere tua madre nel concederti cose, soprattutto da ragazzino. Quando gli hai parlato di questo hai accettato subito? Subito no. Mi ha detto no, ma cosa stai dicendo? Noi abbiamo appena chiuso la nostra vicenda. Ci guadiamo la vita? Ma sì, perché comunque avevano già fatto tanto e dato tanto a questo mestiere, a questo settore, quindi ho fatto fatica. Però poi mi avvalgo di un professionista, che ovviamente mi aiuta, che era il nostro commercialista, che era anche il commercialista dei miei genitori, e gli fa capire che questa è assolutamente un'opportunità. Quindi anche la leva dell'opportunità economica velocemente gli fa cambiare completamente idea. E poi cosa succede? Succede che nel 2001, nell'estate 2001, quindi nel momento di screzio e un po' di disaccordo con Gian Maria, nasce la Margherita. E ti devo dire la verità, nasce da Gian Maria. L'ha disegnata lui? L'ha disegnata lui. Io non mi vergogno a dirlo, anzi, per me, anche perché io tuttora sono in ottimi rapporti con lui, abbiamo ricostruito tutto, quindi la fa lui, la disegna lui, la disegna lui, ma io prendo anche del pazzo da andare in giro con la Margherita, perché poi andavo in giro io negli showroom, che gli rappresentanti mi dicono se c'eravamo bevuti il cervello tutti e due, perché alla fine questa Margherita, messa soprattutto in una collezione da uomo e dietro la schiena di un uomo, non c'entrava nulla. E quindi quella è l'estate in cui nasce la Margherita, l'estate del 2001. Però questa Margherita vende, questa Margherita appena viene consegnata piace, iniziano a fotografarla, iniziano a mettersi. Non hai ancora investito in comunicazione quando succede quello di cui mi stai parlando adesso? Pochissimo. Io personalmente, quello che ti dicevo prima, la mia vita, che comunque volevo fare io, che portava con Seguro, però ancora formalmente con l'azienda avevo fatto qualche investimento, ma tutti i grandi investimenti iniziano da dopo quella primavera-estate. I investimenti che fai prima, quanto spendi e cosa compri? Ma spendo molto a stare in giro, spendo molto a… Le tue spese di rappresentanza. Le mie spese di rappresentanza. Cioè la comunicazione era più il tuo show figo perché era finalizzato qualcosa di concreto, ma era questo il vero costo dell'azienda? Era quello. Ok, quindi non era la comunicazione, vedo il prodotto su una testata piuttosto che in giro. No. Più tu che facevi star bene i tuoi interlocutori. Stavo bene anch'io, avevo impostato la mia vita su quello, però questo aiutava sicuramente a dare anche un percepito di qualcosa che era molto più grande rispetto a quelle che erano poi realmente i numeri dell'azienda. Quindi io comunque verso gli altri, verso l'esterno, verso i terzi comunicavo un percepito già di un'azienda che stava crescendo, come stava facendo, ma magari molto di più di quello che poi era reale. Il famoso bluff, ma come le bugie bianche, quelle che servono, non hanno niente di negativo. Certo. Qual è quindi il giorno in cui senti che stai diventando grande? Comincio a vedere nei mesi successivi l'ingresso dei miei, cominciamo a capire che la margherita era veramente, come si dice, il ferro caldo da battere. Lo senti, lo avverti? Ne mettiamo in produzione un quantitativo, secondo me, 50, 60, 70 mila maglie. Perché ho capito che quando scoppia un fenomeno devi averlo, non devi dire ma tra un mese te le do, perché il fenomeno sta scoppiando in quel momento. Ma per arrivare a quel quantitativo è perché avevi degli ordini subordinati al quantitativo negozianti, non avevano dato fiducia. Quei pochi, soprattutto nella zona di Milano, grazie anche a qualche calciatore, che l'avevano comprata, secondo me era durata tipo nei negozi 24 ore. Quindi avevo poche sensazioni positive, però quelle poche che avevo arrivavano da piazze fortissime come Milano, da interlocutori di negozianti fortissimi e da lì capisco che secondo me quello è il nuovo fenomeno. Prezzo di sell out, quindi al pubblico? 50 euro. E la felpa? 79, 80. Iniziamo a investire con la comunicazione, con l'estate successiva, quindi l'estate del 2002, metto piede per la prima volta in Sardegna e da lì si apre tutta una serie di personaggi, di dinamiche. Quando dici io vado per la prima volta in Sardegna vuol dire che prenoti il tuo volo, il tuo albergo e dici me la gioco? Come funziona? Me la gioco. Senza conoscere nessuno? Secondo me sono andato giù con un amico, prenoto i miei 15 giorni a Portocello, mi prenoto il volo, mi prenoto tutto, mi prenoto la macchina, mi prenoto l'albergo, 15 giorni da solo, stanza singola. Sapevo di avere qualche amico che era giù, però non conosco nessuno. E quindi cosa fai? Come succede quella famosa Sardegna che ti apre a un nuovo mondo? Vai in discoteca? Vado in discoteca. Avevi il tuo bersaglio e sapevi chi volevi conoscere tu in quel momento? Avevo, sì, avevo il mio bersaglio, però ancora il mio bersaglio non lo conoscevo, non sapevo come si muoveva e comunque… Si chiama il tuo bersaglio? Lele Mora. Ok. Perché sapevi che lui in quel momento era, diciamo, il manager più pop della scena, quindi tra quelli grandi era il più esposto e quindi sapevi che ti serviva quello show per cercare di amplificare il tuo messaggio. Certo, poi sentivo parlare, appena arrivato in Sardegna è la prima cosa che sento parlare in costa delle sue feste, comunque lui era… È leggenda in Sardegna. È leggenda. Ma io poi comunque avevo capito che mi piaceva un po' avere anche un po' di scena in prima persona in questa vicenda, no? Quindi cercavo anche di andare come Matteo Cambi a essere invitato a queste feste, cioè… E qual era il locale dove c'era il tuo bersaglio? Che eri sicuro di beccarlo? Allora, sicuramente il mio bersaglio era al billionaire. Ok. Però io facevo fatica ad entrare al billionaire. Ok. Io non entravo al billionaire. Cioè nel senso che ti rimbalzavano all'ingresso? Mi rimbalzavano, non conoscevo nessuno. Infatti non lo incontro mai, se non che un amico comune, secondo me, che conosco in uno… non mi ricordo se è al sottovento, che lavora da lui, mi porta ad incontrarlo. È un suo braccio destro. Mi ricordo che lui, secondo me, nel giro di 24 ore mi ha fatto arrivare da Lele. Ha un suo pranzo. Ha un mitico suo pranzo. Vuol dire a casa sua? A casa sua. E tu eri emozionato? Emozionato perché comunque la tavola era fatta di 10-12 persone. Adesso non mi ricordo proprio il giorno esatto chi c'era di personaggi, ma c'erano comunque dei personaggi che io vedevo in televisione, che vedevo sui giornali. Quindi, sai, era il mio primo approccio con questi personaggi e con questo mondo. Quindi, giovane, io ero giovane, perché avevo 23-24 anni, imbarazzato, comunque col mio modo di essere all'inizio timido, un po' come sono tuttora in certe situazioni. Quindi, vivo, ascolto. Lui mi mette di fianco a lui, capisco, insomma, che comunque c'era qualcosa di positivo che mi piaceva. Mi piaceva quella Sardegna, mi piacevano quelle tavole, quelle viste, quel panorama. Dicevo questa, mi piace questa vita. Mi piace Guru, mi piace il mio brand, ma vorrei che il mio brand facesse parte. a 360 gradi vivesse questo mondo. E da lì facciamo questo pranzo. Poi ci salutiamo, ci lasciamo i cellulari. Purtroppo, secondo me, quando io incontro Lele, eravamo già a più di metà della vacanza. Io dovevo fare i conti con i 15 giorni e con l'aereo di ritorno. Non c'era l'aereo privato che mi riportava indietro quando voleva. Quindi, ci diamo appuntamento di rivederci a Milano. Per poi costruire, l'anno successivo, quello che sarà la prima festa Guru, il primo evento mondano, le prime pagine su chi. E poi mi dice, guarda, ti voglio fare un regalo. Ti porterò, se riusciamo, a conoscere Briatore. Che era il tuo vero bersaglio? Che era il mio vero bersaglio? Diciamo che entrambi, probabilmente, perché ti potevano portare in due mondi completamente diversi. Assolutamente, però comunque, sai, Briatore era forse... Era la meta. Era la meta, è quella che sentivi più irraggiungibile anche. Ti avrebbe potuto dare una cassa di risonanza molto importante in Italia, Briatore poteva dartela a livello internazionale. Assolutamente. E quindi vado e comincio a ordinare, a fare, insomma, a sentire la serata mia, il bigno era il mio e mi ricordo che quella sera riesco a parlare con Briatore e a conoscerlo. Lui, ovviamente... Era preparato. Era preparato. Sono convinto che, come sua buona abitudine, sia assolutamente documentato, per capire che, almeno che ero, e poi anche incuriosito, probabilmente. Questo ha fatto sì che io poi, il giorno dopo, ricevesse un invito in barca, dove sono andato a salutarlo e a parlare in maniera un pochino più riservata. E lui mi propose la Formula 1. La Formula 1 è all'onso, perché era da poco diventato un pilota della Renault. Hai capito più o meno quanto sarebbe costata questa operazione? Ho un'idea che erano... Milioni? Milioni. Ok. Rientro, ne parlo immediatamente con i miei, mi dicono se sono pazzo. Ma sei abituato, te lo dicono quando sei piccolo. Me lo dicono, però in quel momento io non avevo ancora preso un direttore generale in azienda da me, che poi sarà con me dal 2004 in poi fino a poco prima della disfatta, e ho un consulente esterno che è un amico di famiglia, perché comunque cominciavo a fare diversi milioni di euro, a avere costi, quindi mi ero comunque appoggiato a una persona che sapevo che era un grande professionista, soprattutto della finanza, che mi seguo in questa cosa. Quindi quando i miei mi dicono che sono un pazzo, questo grande professionista sa delle idee e mi dice no. Secondo me, dell'età di mia madre ovviamente, un coetano di mia madre, quindi una persona che ha credibilità verso i miei genitori, mi dice no. Secondo me questa è un'idea geniale. Mi appoggia tutto e quindi io richiamo Flavio. Anzi, Flavio mi dice, ci vediamo a Monza, quindi da agosto, per il Gran Premio di Monza, quindi un mese dopo. Ti invito, vieni con chi vuoi, ai box. Io vado con i miei, gli presento. Che è stato un ottimo modo per convincerli. Un ottimo modo. Per farli arrivare comodi, decido anche che da Parma a Monza sarebbe stato più comodo arrivarci con un elicottero. Lo paga Briatore o lo paghi tu? Lo pago io. Così arriviamo da… Da signori, da grandi, da quelli che sono all'altezza di quell'operazione. Di quell'operazione. Si parlano, si conoscono, c'è subito feeling. Bene, finisce il Gran Premio, ci diamo appuntamento il mese dopo a Oxford, alla sede dell'Areno in Inghilterra, per vedere il contratto, la livrea della macchina, il posizionamento, la proposta e tutto. Andiamo, vado su con quel consulente, quell'amico di famiglia, i miei non vengono, chiudiamo il contratto triennale, 2004 e 2005, per due anni consecutivi, quindi dal primo anno dell'investimento, la Renault diventa campione del mondo, pilota e costruttori e Alonso diventa campione del mondo. Io ho lui come testimonial. Quindi lui indossava anche nella vita privata? Assolutamente. Io avevo la possibilità di fare scatti, avevo la possibilità di usare le sue immagini, ovviamente con gli accordi che erano stati presi. La Spagna, da zero, quindi un mercato aperto per caso, inizia e arriverà, insieme a tutta la mia esplosione, solo come mercato spagnolo a fare 30 milioni di euro. Wow, quindi corti inglesi, tutto quel mondo... Corti inglesi, negozio nostro a Barcellona di 600 metri. Quel momento e la Formula 1 fa scattare una visibilità, una comunicazione, un vedere in grande le cose, un essere comunque percepito all'estero come un grande marchio, perché comunque di marchi di abbigliamento della Formula 1 allora non ce n'erano tantissimi. E se ce n'erano, erano cento volte più grandi di guru, di fatturato, di distribuzione. Quindi vuol dire anche quello dare un'idea di un'azienda che c'è, molto di più rispetto a quello che realmente era. Quindi scoppiandomi poi pian piano un paese, gli altri si attaccano. E infatti arrivo poi, fino al 2006, ad avere 17 paesi nel mondo. Qua parliamo di un fatturato di, nel 2006? L'apice 2005, 100 milioni, 2006, 90, 85, 90, una leggera... però vicino ai 100. Quando fatturi 100 milioni, automaticamente se tu mi dicevi prima che all'inizio di tutto hai dovuto produrre molto di più di quanto realmente ti stavano ordinando ma dovevi essere pronto, quando fai 100 milioni hai un investimento molto importante perché devi... o no? Assolutamente, perché comunque assolutamente si devi far fronte a... Quindi l'esposizione è sempre... più fatture più si è esposto. Più si è esposto e la voce del bilancio della produzione, quindi della lavorazione, che ovviamente io davo a terzi, perché io non avevo stabilimenti produttivi miei. Io facevo fare, però acquistavo poi un prodotto finito, anche se partiva da me la creazione, magari i tessuti li compravo io, però io poi ricevevo un prodotto finito. Siamo arrivati che nel 2005, tra il venduto magari vero e comunque tutto quello con cui dovevo far fronte, le aperture di mercati nuovi, 5 milioni di pezzi all'anno giravano i miei magazzini, quindi tantissimo. Ovviamente non c'era solo la t-shirt, perché io poi ero diventato un total look. Vorrei farti una domanda. In tutto questo escursus mi hai parlato di... vado al billionaire, ho la mia area riservata, cioè... Racconti quanto ti piace essere al centro dell'attenzione, attirare l'attenzione, far vedere che sei solido. Ma qual è la sensazione che provi? Cioè, volevi essere ricco? Volevi essere famoso? Cioè, cosa stavi andando a cercare in quell'escalation incredibile? Io cercavo di questi elementi che tu hai detto di tutti un po', e li volevo tutti. Volevo essere famoso, volevo avere un marchio di successo, volevo essere riconoscibile io. Mi faceva piacere che qualcuno mi fermasse e mi dicesse, ah ma tu sei quello di... Questo mi gratificava, non mi vergogno a dirlo, mi piaceva. E all'interno della costruzione del marchio, di tutto il progetto che facevo, da quando sono arrivato a scattare a Los Angeles con la Chapelle, e Pavela Anderson, io cercavo anche questo. Però secondo me, lasciando perdere certe follie e dinamiche in cui io ero entrato, che purtroppo in un momento c'è anche la cocaina, la droga, che quella sicuramente non ti aiuta non tanto a essere lucido, sicuramente anche non essere lucido, ma non ti aiuta più ad avere un contatto diretto di quello che ti sta capitando, ti proietta e ti catapulta in una dimensione in cui tu perdi il controllo di tutto, di te stesso, non solo dell'azienda. È ovvio che non puoi più lavorare, se stai tre giorni sveglio, non sei più reperibile, non ci sei più per nessuno. Sei distratto. Bravissimo. Cioè diventa una vita che tanti non la capiscono perché non ti possono neanche star vicino, ma non perché ti criticano o ti vogliono male, perché probabilmente certe persone, anche amiche tue, che magari vengono anche a bere un bicchiere di vino con te, quando poi loro si alzano il giorno dopo per andare a lavorare, tu vai a letto. Quindi diventa proprio un mondo, una vita parallela. Quindi questo, insieme a tutte le mie altre situazioni, le mie debolezze che comunque stavano aumentando, le mie insicurezze che io cercavo di colmare con le follie e le esagerazioni, cominciano a essere elementi che mi portano a volermi muovere solo con l'aereo privato, dappertutto. Voler venire a Parma da casa mia nel giardino a Milano con l'elicottero, che probabilmente ci voleva più tempo perché poi non puoi atterrare dove vuoi, quindi a follie a venire a Milano a prenotare quattro suite dal Principe di Savoia al Four Seasons e non dormire neanche una di quelle perché poi volevi rientrare a Parma, perché a Parma che cosa avevi? I tuoi riferimenti perché tipo hai capito? Quindi tutte le dinamiche che poi diventano una schiavitù che ti ingloba, che ti sotterra. Io ho letto che tu non bevevi alcolici e ordinavi bottiglie, che ordinavi a Ragosta e non la mangiavi. Era come se tu volessi far star bene tutta una serie di persone intorno a te per averle vicine perché ti sentivi solo. Io mi sentivo molto solo e quindi questa debolezza... Ma ti senti così da quando sei piccolo? Però ovviamente sì. Questa debolezza andava colmata con questi gesti, che comunque alla base rappresentano una grandissima solitudine. Spesso penso che tutte queste persone a cui davi tanto non ti chiedevano nulla, lo facevi tu. No, mi chiedevano nulla, lo facevo io. Cioè se io, adesso non mi ricordo e non voglio fare nomi, nel senso mi staccavo un orologio da 30.000 euro e lo regalavo a qualcuno, come è capitato, non era questa persona che mi chiedeva l'orologio. Nessuno mi ha mai messo in queste condizioni. Perché poi capitava anche che non era il primo, ma era il secondo. Al secondo uno ti dice, Matteo dai, ok, non ti preoccupare, magari è tardi, vediamo domani, ne parliamo domani. Perché poi queste cose non capitavano alle due del pomeriggio. Capitavano nei momenti di follia. Davanti a un caffè. Pensi che la cocaina ti abbia potuto distrarre da quella sensazione di solitudine? Cosa ti dava? Ti devo dire la verità, e probabilmente è stato per tanti anni così difficile venirne fuori, la felicità che non so sotto che struttura chimica, non so il perché, ti dà questa sostanza e questo atteggiamento. ti gratifica immediatamente a tuo comando. Mi hanno spiegato negli anni, mi sono cercato di curare, ho visto tanta gente, che essendo una dipendenza molto potente, una droga molto potente, rilascia immediatamente dei benefici molto potenti di immediati, no? Quindi è come schiacciare un tasto quando ti senti giù, quando ti senti solo, quando ti senti non all'altezza, che ti va a colmare tutti questi tassellini immediatamente. Quindi il Blitz nel 2006 è la prima volta che la finanza viene a far visita alla tua azienda, giusto? Nel 2006 a novembre abbiamo il primo ingresso per un controllo, una verifica, che comunque noi facevamo parte già di una dimensione che era importante, quindi certe direttive mi hanno spiegato, arrivavano da Roma. Quando succede il Blitz? Quindi non è una cosa piacevole, immagino. Ti spaventi? Guarda, per me, Luca, è stato un... perché io tra l'altro ero a Milano, la mattina che ho ricevuto la telefonata ero a Milano, in un albergo, adesso non mi ricordo dove, ma di quelli pop, off, top. Secondo me avevo dormito probabilmente un'ora dalla sera prima, quindi mi vesto, corro giù, mi stanno aspettando, sono con l'autista, cerco di rimettermi in sesto, ma non sono sicuramente decente, non capisco cosa sta succedendo, ci sono gli uffici scocciati, sigillati di chi non è presente, che non li possono aprire, quindi perquisizioni, tutta una situazione che non capivo, perché comunque, sì, non mi consideravo tale da aver... perché dovevano fare una roba del genere? Poi è giustamente il loro modo di lavorare, quando vanno a fare una verifica devono avere comunque le loro cose, quindi non critico nulla, però sicuramente è una cosa improvvisa. Quindi questo mi spaventa un po'. Cominciano a uscire articoli sui giornali, cambio indagato per fatture false, probabilmente, sai, qualche fattura falsa c'era, andare a capire perché e come, fatture false è un mondo enorme. Ma tutto quel mondo della fattura falso, di altro che è un po', sembra quasi un modo per tappare dei problemi, quei problemi li causavi tu? Cioè nel senso... Li causavo io all'80%. Per decisioni sbagliato, perché spendevi troppo, o perché non avevi più la testa? Non avevo più la testa, spendevo troppo, dovevi far fronte a certi costi in una determinata maniera, i denari che ti spendevo tutti, quindi ecco, cominciava a essere un gatto che... E non esisteva nessuno nella tua vita che avesse l'autorità per dirti basta. C'era a Luca una cosa molto forte, che probabilmente forse col senno di poi, che era l'interdizione, però che doveva fare mia madre, che non si è sentita di fare, come probabilmente non mi sentirei, non so se verso un figlio io mi sentirei, perché comunque è un passo molto delicato, che mi viene da dire, può rovinare una persona comunque per tutta la vita. Ci spieghi che cos'è l'interdizione? Ma l'interdizione è praticamente perdere tutte le tue facoltà decisionali, di denaro, di tutto, se non sempre con una persona di supporto, però tu capisci che per un amministratore o il presidente del consiglio di amministrazione di un'azienda, di guru, voleva dire intanto andare sicuramente sui giornali, voleva dire avere, secondo me, beh, poi col senno di poi comunque abbiamo perso tutto, siamo andati in galera, non so... Perché queste interdizioni, alla fine in diretta, l'hai vissuta dopo, perché poi ti è stato comunque... Certo, però il passo era quello, quando andava tutto bene, comunque sai, non nessuno pensava di fare una fine del genere, quindi era una decisione, immagino molto, molto difficile per un genitore. Cioè voi non... Cosa vuol dire che non pensavi di fare una fine del genere? In quel momento o molto prima? Cioè voi non vi stavate rendendo conto? No, noi stavamo già... Noi abbiamo iniziato a abbassare il debito, Luca, a fare tutta una serie di procedure e di ristrutturazione. Quindi avete fatto di tutto per salvare l'azienda? Di tutto, abbiamo abbassato il debito di 15 milioni in un anno e mezzo. Ok. Però non volevo accettare che non avevo più i miei 2 milioni di euro di stipendio all'anno. Che diventa difficile, perché sai, poi ovviamente quando sei in ristrutturazione, quando chiami figure per metterti a posto, la prima cosa è che ti dicono, senta, lei 2 milioni non le parla... Eh beh certo, come fai se no? E tu non potevi vivere con me? Riuscivi a starci dentro con questo ritmo di vita che avevi? Gli spendevi di più? Io mi ricordo che ho disinvestito quando non mi hanno dato più lo stipendio. Ti dico che secondo me avevo da parte il più veloce disinvestibile un milione di euro e con quello stile, con quei costi, con la struttura, con gli autisti, con le cose che poi in quel momento mi ero fatto carico io personalmente ma in un anno e mezzo gli ho spesi. Cioè perché comunque in quel momento e in quella situazione in cui ero proiettato io... Ancora facevi uso di cocaina quando spendavi due città? Assolutamente. Purtroppo ti dico che era molto molto facile spendere 100, 150, 200 mila euro al mese quando comunque sei abituato all'aereo privato, all'elicottero, al servizio di autisti, la sicurezza, era folle perché comunque poi vabbè col senno di poi mi hanno sequestrato tutto, sono stato arrestato. Quindi lo spendere questo milione e mezzo in un anno era proprio una roba folle perché magari con questo milione e mezzo ci avrei campato non so io per 15 anni. Oggi sicuramente con la testa che hai sì. E' con quello, eri in una centrifuga, vivevi in un mondo diverso. Centrifuga totale. Quindi tu per riprendere consapevolezza della tua vita hai dovuto obbligatoriamente disintossicarsi del tutto. Non eri lucido fino a quel momento in cui non hai tolto quella cosa dalla tua vita. Io sono ripreso la mia lucidità in carcere. In carcere hai provato a farne uso? Hai cercato? Zero. Non hai mai neanche provato una sola volta ad ottenerla? Mai, mai. Io dal momento che sono arrivato in carcere sono entrato in un... E' come se mi fossi risvegliato, no? Di colpa, avessi aperto gli occhi e studiavo il mio atto, leggevo l'ordinanza di custodia cautelare, cercavo di prepararmi all'interrogatorio, cercavo di capire perché, le dinamiche. Quanto tempo sei rimasto? Tre mesi in carcere. Mi racconti quella vita, cioè dalla vita folle che hai avuto dove ti ritrovi eri da solo in una cella di... Eri in isolamento o eri con un compagno? Eri in isolamento ma per una mia tutela nel senso che c'era una disponibilità di non tutte le celle occupate ero davanti a una cella... In che città? Parma. Ah, ok. Che comunque è un carcere di massima sicurezza, un carcere tosto, è un carcere molto grande dove c'è il 41 bis, quindi carcere strutturato, no? Ti sei cagato sotto? Eh, un po', sì. Ma raccontami un episodio dove sei veramente spaventato senza fare né nomi né nulla la situazione. Mi sono spaventato quando sono entrato perché non capivo dove ero, ci ho messo tre giorni a rendermi conto dove ero, questo sbattere delle porte che te lo ricordi, di questi cancelli enormi, di non vedere più nulla, di non sentirmi più veramente, ma non più quello di guru, con le guardie, di aver paura ad andare, a chiedere di uscire per andare in bagno o andare a fare la doccia perché vivi in una situazione veramente, ti dico, difficile. Ci sono stati situazioni di pericolo o mai? Ma situazioni di pericolo mai, ma perché hanno avuto questo, fra virgolette, non è un occhio di riguardo, una sensibilità di non farmi vivere con gli altri. Perché ti assicuro che poi capita, perché puoi chiedere una sigaretta in più, non un favore in più, è una sigaretta o l'acqua quando arrivi che non hai, viene considerata un favore. Ti hanno messo per tre mesi più che protetto quindi con l'assessibilità sono stati attenti a preservarti. Preservarmi, c'era un'attenzione anche all'autolesionismo, al suicidio, quindi io ero di fronte a questa cella che è monitorata perché è di fronte al posto fisso che ci sono in questi lunghi corridoi dove sta comunque la polizia penitenziaria, dove poi gira per i corridoi, però di base quando si ferma che ha diciamo il suo ufficio ad ogni piano ha di fronte questa cella quindi riesce a controllare qualsiasi atto che tu possa fare magari in un momento di sconforto. E non hai avuto problemi di assinenza? Ma sono arrivato intossicatissimo. Come lo vivevi? Stavi male? Cioè che reazione fisica avevi? piangevo, non mangiavo, ho chiesto immediatamente di vedere lo psichiatra della struttura dove ho iniziato da subito a curarmi, ho chiesto di essere preso in carico dal CERT del carcere perché comunque la dipendenza era, ma è stata anche dimostrata, io lavoravo i capelli lunghi quindi poi ho chiesto per dimostrare totalmente e presentare al magistrato il mio esame del capello, l'esame del capello è una fotocopia di quello che è il tuo stile di vita a proposito non mente non mente non mente anche sugli anni quindi sai la dipendenza viene dimostrata anche da tu puoi aver fatto una serata magari tre giorni prima ma non è quello dimostrava proprio una mia dipendenza verso la sostanza sapevi di scontare una pena fatta di mesi e non di anni e poi poterlo commutare con i domiciliari cosa sapevi quando sei entrato? sapevo poco sapevo che comunque era un processo molto difficile che avranno dovuto collaborare che avrei trovato di fronte delle accuse fondate strutturate dimostrate l'unica alternativa era quella di collaborare assumendomi le mie proprie responsabilità le mie colpe e cercando anche di convincere insieme a me la mia famiglia a fare questo grande risarcimento personale che abbiamo fatto di quasi 40 milioni di euro questo per salvare soprattutto le famiglie i fornitori dipendenti per salvare metterlo all'interno del fallimento quindi nessuno si è costituito parte civile nessuno si è costituito parte civile questo è stato il nostro risarcimento personale 4 anni di patteggiamento di cui vengono scontati comunque tutti 3 mesi in carcere 1 anno ai domiciliari 2 anni e mezzo agli affidamenti in prova ai servizi sociali prima di entrare nei servizi sociali e farmi spiegare da te cosa facevi esattamente ritorniamo a tua mamma tua mamma è tua socia e tua mamma viene arrestata insieme a te nel tuo stesso carcere? no il primo giorno si poi no viene trasferita a Modena perché Modena ha la sezione femminile e quanto tempo sconta in carcere? addirittura lei sta un mese in più di me quindi sta 4 mesi ti sto parlando di cella più domiciliari e di un altro anno io esco prima perché ottengo gli arresti domiciliari in comunità per poter iniziare un programma terapeutico che è accettato dal magistrato che decide comunque quali sono le modalità del programma terapeutico che però ti dà la possibilità di andare in un ambiente diverso dalla cella che sicuramente in quel momento psicologicamente aiuta tanto tua madre oggi finanziariamente vive in modo tranquillo? ma sai io non lavora più? no noi siamo riusciti che tra l'altro è pubblica noi abbiamo risarcito in totus il tribunale anche probabilmente con cose che potevano non essere sequestrate o vendute e portate via contestualmente abbiamo chiesto però che ci fosse una transazione in denaro che hanno siglato mia madre il compagno di mia madre che è un atto pubblico il suo compagno non è andato in carcere? no anche lui quando finisce quel periodo lì cosa credi che la gente pensi di te? prima eri un figo eri quello che allora vivo due momenti vivo un momento molto drammatico perché sono additato da tutti come dopo il carcere? nel carcere perché io leggo i giornali leggo le cose leggo quello che esce perché in quel momento la stampa ti dà un po' dentro mi massacra ti dico la verità in certi aspetti mi massacra volevo sapere se sentivi addosso quel giudizio e se questo sì lo sentivo e se questo ti ha condizionato in un certo qual modo all'inizio sì ero molto timido adesso per vedere il Matteo che vedi oggi esattamente tra un mese tutta questa vicenda compie 12 anni quindi un percorso Luca lunghissimo molto lungo un percorso lunghissimo è un percorso lunghissimo dove sono successe delle ricadute per fortuna adesso non più da tempo però nel 2012 sì non so il motivo probabilmente dato da aspettative di rivoler tornare velocemente quello che ero prima di cavalcare pensavi che saresti ripartito pensavo che sarei ripartito che fosse molto più facile ripartire in un certo aspetto poteva essere figo anche essere stati arrestati quindi tutto un castello che io mi ero costruito che poi non si è avverato mi racconti molto brevemente cosa fai in questi 12 anni quando vengo rimesso in libertà nel 2009 passo due anni in libertà poi arriva la pena da dover estinguere quindi dopo due anni di libertà vengo chiamato dai servizi sociali e dal Uepe che è l'ufficio di esecuzione penale esterna che però è quello che ti obbliga a dover scontare la pena e a darti delle misure delle restrizioni delle regole per poter beneficiare dello sconto pena fuori dal carcere e sono rigidissime sono orari di rientro la sera orari di non uscita prima di un certo ora alla mattina obblighi di volontariato di assistenza verso gli obblighi familiari non frequentare pregiudicati di non metterti nelle condizioni di qualsiasi reato che non lo puoi commettere di non poter uscire dal tuo comune di residenza e questo per tre anni dopo essere già stato un anno ai domiciliari dopo in quel momento nel 2012 aver ritrovato un guru che mi richiamà che mi ha richiamato per andare a occuparmi come consulente esterno della comunicazione dei rapporti con i giornalisti dei rapporti con i media dopo aver ripreso delle pagine su chi per il mio ritorno da guru dopo aver ripreso una pagina sul Corriere della Sera quindi questo vuol dire un'altra limitazione perché io stavo ritornando a vivere ma non potevi farlo come intendevi farlo tu ma non potevo farlo come intendevo farlo io quando eri a servizi sociali fai il soccorritore che cosa significa? beh fare un corso di 6-7 mesi diventare milite dell'assistenza pubblica quindi vuol dire essere su un'ambulanza che va su ogni tipo di soccorso esperienza bellissima molto dura ma i mondi che mi rendono felice oggi sono qualche le certezze quindi avere un po' più di certezze rispetto a prima perché sulle certezze costruisco un po' di più il mio futuro ho bisogno di più punti fermi nel lavoro nelle mie dinamiche personali nei miei rapporti quindi ho bisogno di un po' di più di prima di certezze perché mi rendano un po' più sicuro questo probabilmente è anche normale dopo il percorso che ho vissuto il lavoro sono molto sono contento non sono sono carico per il lavoro ma non ho l'approccio di dire faccio l'aguro 2 perché so che è molto difficile sto costruendo piano piano quindi cerco di essere molto molto reale terreno poi mi dà ancora felicità andare in un buon ristorante con un amico e avere una bella bottiglia di vino per l'amor di dirlo ti godi quel momento è un momento piacevole moltissimo mi piace ancora mentre prima era una cosa così normale che adesso mi fa impazzire e comunque mi dà molta e lo puoi fare in modo più limitato ovviamente rispetto a un tempo più limitato appunto me lo godi ancora di più se domani ti capitasse con il brand attuale o con qualsiasi altra cosa di rigirare alla grande di fare il tuo primo milione non di fatturato che ti metti sul tuo conto corrente tutto tuo hai paura di ritornare dove eri? secondo me no perché oggi tu l'hai vissuto due volte quel momento l'hai vissuto con l'eredità di tuo padre che hai speso come un pazzo avevi 18 anni però l'hai rifatto ancora dopo la mia fortuna Luca è un po' non è per essere però l'età mi sento un po' più stanco rispetto a certe dinamiche non ho più voglia di viverle mi aggrada anche perché sono stato obbligato a farlo a dover andare a letto alle nove quindi ho fatto una palestra tale in questi anni per obblighi subito dei domiciliari poi dell'affidamento di essere comunque dopo il 2012 iniziato l'affidamento essere pulito perché se non ero pulito ai cereologici mi arrestavano ancora quindi una palestra piano piano passo per passo però lunga che devi continuare a frequentare quell'allenamento lì se no perdi tutto se no caschi e se caschi poi puoi avere delle problemi quindi questo ti spegne un po' qualche fuoco incandescente gli anni passano però probabilmente anche in que la famiglia mia moglie mia figlia quindi una struttura anche mia che non mi abbandona a me stesso che probabilmente mi aiuterebbe anche a non lasciarmi vivere in maniera facile certe situazioni quindi penso che comunque approccerai in maniera diversa secondo me se tu sei stato molto generoso con la sofferenza in tutta la tua vita ti sei sempre fatto trovare presente quando aveva bisogno di una cavia e penso che tu in questo momento abbia il diritto di essere felice a 43 anni secondo me oggi hai un'esperienza tale e anche una maturità sei centrato sei molto equilibrato spesso mi fa paura il tuo equilibrio perché non so quanto sia vero non so quanto tu non voglia deludere gli altri e quindi fai certe cose penso che tu oggi devi scavallare io penso che tu debba prendere l'esperienza imprenditoriale che hai vissuto compreso gli errori e non so se nell'abbigliamento adesso mi piacerebbe parlare di questa nuova esperienza tua dove ti vedo particolarmente felice nel senso che ti ho osservato un po' su Instagram e quando ne parli ti ho visto felice in due momenti quando sei con i tuoi amici ho visto una foto su Instagram dove hai proprio un sorriso di un ragazzo felice questo è stato bellissimo perché non ti avevo mai visto così e quando parli di questo progetto ti vedo carichissimo carichissimo e quindi mi piacerebbe sapere cosa ti ha conquistato perché immagino che molti prima dell'esperienza di valvola che hai dichiarato da poco ti abbiano chiesto di fare il loro Matteo Cambi di guru a centinaia raccontami prima quello cosa volevano da te ho accettato anche spesso delle banali proposte di consulenza accettate via messaggio di Instagram che non la toglierà il sistema di approccio però che poi ci sono rivelate delle fregature quindi insieme a questi ragazzi di valvola sono riuscito a trovare quelle dinamiche pure di vedere un progetto più lungo più costruito ci avevamo messo un anno e mezzo per farlo a oggi siamo arrivati a avere quello che tu vedi una linea una rete vendita una collezione vera e propria che piace ma perché alla base ho trovato delle persone che mi hanno dato fiducia anche nel futuro perché ho bisogno anche di quello io perché si chiama valvola il brand chi ha scelto quel nome esisteva già ok e tra l'altro mi ha incuriosito anche quel nome perché ha queste caratteristiche molto belle riassume un concetto che ognuno ha la sua valvola di sfogo ma non solo per dire mi ubriaco anche in moltissimi aspetti positivi io sono stato chiamato per dare una struttura a questo nome e a questo progetto che non aveva nulla col fashion quindi ho costruito tutto e da lì però ho costruito subito come consulente quindi passo per passo poi ho vissuto ogni dinamica ogni alto e basso di questo progetto e fino a essere oggi parte tra uno o due anni cosa vorresti essere? chi vorresti essere? vorrei tornare a essere sicuramente un imprenditore ho capito degli errori fatti anche successivamente di continuare a credere come sto facendo ora in me stesso probabilmente di essere consapevole che ormai non tra virgolette non ho ammazzato nessuno nella mia vicenda è chiusa e devo andarne anche a testa alta per come mi sono comportato quindi questo devo ritrovare un po' sicurezza e penso che comunque in questa strada con questa strada ce la posso fare penso che tu abbia continuato abbia detto fin troppe volte tutto quello dove hai sbagliato certo adesso basta adesso è il momento di entrare nella felicità la felicità non vuol dire rifare successo non vuol dire riessere famoso non vuol dire essere ancora ricco vuol dire essere felici certo e ognuno ha un concetto di felicità diverso allora io adesso ti vorrei dare un foglio bianco non ti guarderò lo farei per te stesso mi piacerebbe che tu scrivessi uno o due obiettivi decidi tu almeno uno che tu vorresti poter realizzare nel giro di poco certo un anno due anni io ti spedirò questa lettera non la leggerò te la farò imbustare ti scriverai il tuo indirizzo te la spedisco e la riceverai tra un anno perfetto e spero che tu potrei essere molto fiero di te io sono molto fiero di quello che tu mi hai detto secondo me oggi è un bagaglio di esperienza tosto e devi sapere strappolare la parte buona perché secondo me puoi fare qualcosa che sia molto più potente non in termini di fatturato nell'essere felice tu certo ti lascio scrivere perché ti ho distratto per tutto questo tempo grazie mille di esserti grazie a te aperto di essere stato così generoso grazie Matteo grazie